Buongiorno a tutti, nei prossimi 20 minuti insieme a Paolo vi guideremo alla scoperta di come gli insight in tempo reale ottenuti grazie alle serve di ultima generazione siano la chiave per il successo del vostro brand anche nel mondo della Connecti TV. Confrontandomi quotidianamente con inserzionisti ed agenzie rimango sempre sorpresa dalla quantità di diversi strumenti che viene utilizzata per la misurazione, un tema che è stato approfondito ampiamente durante la mattinata di oggi. Affinché le campagne abbiano successo e gli inserzionisti capiscano cosa sta funzionando è fondamentale che la misurazione sia coerente lungo tutto il funnel. Ci saranno sempre nuovi modi di misurare, penso ad esempio all'attention, ma è importante e noi crediamo che sia rilevante che siano gestiti e misurati in un unico luogo con ottimizzazione in tempo reale. Un tema che diventerà sempre più rilevante in un futuro cookie-less, che anche se non riguarda la Connecti TV direttamente riguarda il web a 360 gradi e di conseguenza il comportamento del consumatore, per continuare a permettere agli inserzionisti di comprendere l'impatto delle campagne ed andare a massimizzare i loro investimenti. L'advertising solitamente è suddiviso in due strategie, brand e performance. Molto spesso queste strategie sono misurate separatamente e hanno obiettivi diversi. La performance è più facile da misurare perché possiamo vedere una conversione. Il brand è più complesso, è facile misurare la recent frequency, ma come facciamo a comprendere che la nostra campagna abbia avuto un impatto? Il ciclo di feedback è importante e di solito viene misurato attraverso degli studi di Brand Lift. Le brand survey esistono da molti anni, in realtà nascono negli anni venti con i creative testing. Si trattava di un'indagine a porta a porta dove venivano identificati lettori di particolari giornali e riviste a cui veniva chiesto se avessero visto un annuncio e quale impatto aveva avuto su di loro. Questa è la prima volta che le aziende possono comprendere se la loro pubblicità è stata efficace. Dieci anni più tardi si sviluppano le indagini di opinione. Gallup si rese conto che piccoli campioni di popolazione potevano prevedere atteggiamenti generali. Questo metodo è tuttora utilizzato oggi per il campionamento ed è così che nasce la misurazione televisiva attraverso i sondaggi a campione. 20 anni più tardi fanno il loro ingresso i focus group. Veniva individuato un piccolo gruppo di audience che ascoltava delle trasmissioni e a quali veniva chiesto di premere dei pulsanti mi piace o non mi piace. In seguito veniva chiesto ai partecipanti perché avessero premuto su diversi pulsanti. Il metodo permette di ottenere degli insight sui dati qualitativi. Negli anni 60 si sviluppano le tecniche statistiche. Green si rese conto che poteva prevedere che cosa avrebbero fatto le persone in base a come rispondevano le domande su gusti e preferenze. La sua tecnica di modellazione statistica è una delle colonne portanti delle ricerche di mercato. Negli anni 70 si sviluppano gli A-B testing. La segmentazione del mercato tramite testa B è tuttora oggi utilizzata nel marketing per andare a testare dei messaggi diversi. E questo permette ai responsabili di marketing di prevedere l'esito delle loro campagne. 20 anni più tardi nascono i web analytics. Il cookie terze parti nasce nel 92 e ci permette di andare a costruire un profilo del consumatore attraverso tutto quello con il quale ha interagito. All'inizio del secolo nascono i net promoter score che permette ai brand di andare a valutare la probabilità con la quale un consumatore avrebbe promosso il loro marchio fino ad arrivare al 2010 con i digital brand lift studies e ai giorni nostri con i real time digital brand lift studies. Nella presentazione di oggi ci focalizzeremo sugli studi di brand lift. Vediamo come funzionano gli studi di brand lift tradizionali e quali sono i loro limiti. Il processo è costituito da tre fasi esposizione, survey e analisi. Nella parte di esposizione nella maggior parte degli studi di brand lift la popolazione viene suddivisa in un gruppo di esposti e in un gruppo di controllo. Il gruppo di esposti ha visto la pubblicità e il gruppo di controllo non l'ha vista. Solitamente questi gruppi vengono suddivisi in maniera casuale e quindi è difficile verificare se ci sono delle distorsioni. Una volta che poi abbiamo individuato il target andiamo a presentare la survey simultaneamente ad entrambi i gruppi che può essere in banner tramite dei panel o tramite delle notifiche. Gli standard utilizzati, i template utilizzati sono particolarmente rigidi, sono standard e solitamente non prevedono delle personalizzazioni. Una volta poi che è terminata la survey solo in quel momento possiamo ottenere i risultati di quella che è stato il suo andamento. Non è possibile modificare o cambiare il survey in corso di campagna. Sicuramente gli studi di brand lift tradizionali funzionano ma è anche vero che non sono in linea con il comportamento del consumatore di oggi che è in continua evoluzione e quindi dovrebbe permettere ai responsabili marketing di andare a effettuare delle modifiche in tempo reale alla loro campagna. Noi crediamo che gli studi di brand lift per creare valore dovrebbero essere live con un processo che prevede nella parte di esposizione la divisione del gruppo tra esposte e controllo ma verificando che entrambi abbiano gli stessi interessi e le stesse caratteristiche socio-demografiche. Una volta che poi abbiamo definito l'obiettivo di brand che può essere di awareness, di ad recall, di considerazione piuttosto che di preferenza, di familiarità o di raccomandazione, andremo a presentare la survey simultaneamente ad entrambi i gruppi in banner reclutando questi utenti in tempo reale. Inoltre le domande sono completamente personalizzabili. Già dal giorno successivo alla survey possiamo ottenere i primi risultati parziali. I risultati, i dati sono disponibili in tempo reale per continuare a permettere delle continue e costanti ottimizzazioni. Questo approccio permette di massimizzare l'impatto delle campagne e chiaramente massimizzare i nostri investimenti. Il Brandly Live è disponibile per tutti i media dalla connetti tv al mobile, questo per seguire il customer journey del nostro consumatore. Se la campagna utilizza diversi media possiamo andare ad approfondire i risultati della survey per capire come distribuire al meglio il nostro budget. Alcuni dei nostri inserzionisti la utilizzano anche per andare a comprendere l'impatto delle creatività utilizzate prima di lanciare delle campagne. Questo ciclo di feedback è importante per evitare degli sprechi in pubblicità. Inoltre ci assicuriamo che i dati ricevuti siano azionabili. Capire quale demographic, quale device, quale creatività ha avuto un migliore impatto sulla nostra awareness ci aiuta non soltanto a migliorarla ma ci permette anche di andare a rivedere la strategia generale. Inoltre è possibile andare a cambiare la tipologia di domanda per approfondire alcuni insight. Al termine e in corso di campagna possiamo ottenere dei report dettagliati su quello che è il profilo socio-demografico del nostro consumatore ed inoltre degli insights che poi ci racconterà anche Paolo che possono essere più approfonditi come la frequenza, la geolocalizzazione piuttosto che il device. Ora lascio la parola Paolo che ci racconterà come Polestar insieme a Densu ha utilizzato il Brandly Live per andare con una campagna Connetti TV. Grazie. 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 Polestar significava sostanzialmente rilevare in tempo reale il livello di awareness del marchio stesso sul territorio italiano, tutto questo agganciato a specifiche audience create attraverso un'integrazione tecnologica tra Denzu e Quantcast e gestite ovviamente anche con layer di intelligenza artificiali comuni. Ecco però prima di andare a vedere i risultati di questa campagna vi rubo qualche istante per inquadrare un po' meglio Polestar ma anche per identificare alcuni aspetti che hanno portato alla genesi della campagna stessa. Ecco abbiamo detto Polestar è un player automotive svedese, nasce come costola di Volvo ma si impone subito sul mercato come elemento innovatore nel mondo dell'auto elettrica, anzi meglio completamente elettrica, 100% elettrica ad alte prestazioni. L'obiettivo della campagna però non era solo quello di aumentare la brand awareness di Polestar ma anche quella di spingere il lancio di un nuovo modello, Polestar 4, un SUV coupé completamente nuovo nella gamma di Polestar, dalle particolari caratteristiche tecniche e soprattutto dal design del tutto nuovo, assolutamente iconico. Quindi proprio grazie a questo lancio Polestar ha voluto anche sfruttare il fatto di comunicare ad un pubblico specifico i valori della marca Leicaria che non ruotano solamente intorno al fatto dell'auto elettrica ad emissioni zero ma in realtà tengono conto di tutta una serie di elementi che portano alla sostenibilità a 360 gradi dei prodotti Polestar uniti ad un innegabile stile, ad un innegabile design. Ecco quindi che per coniugare questi due obiettivi, ripeto, da un lato awareness ma dall'altro anche spingere il lancio di un elemento totalmente nuovo, Polestar 4, ecco che insieme a Polestar e a Quantcast come Denzo ci siamo seduti per disegnare la campagna attraverso tre diciamo pillar. Il primo è la strategia di erogazione. Abbiamo scelto la CTV e in tutte le sue declinazioni possibili, strizzando l'occhio di più alla parte più digitale della CTV, utilizzando due formati di video 15 secondi e 30 secondi da erogare ad un pubblico specifico. Il secondo pillar è proprio la costruzione del pubblico specifico. Inizialmente guardando al target di riferimento di Polestar che è 40+, ecco abbiamo invece creato un segmento raffinando, integrando il sociodemo 40+, attraverso un'integrazione specifica tra Denzo, attraverso la sua soluzione Mercury di cui vi farò accenno fra breve, è Quantcast, quindi per ottenere un segmento diverso, ovviamente cookie less attivabile nel mondo CTV. L'ultimo pillar, il già citato Brand Live Life che aveva ruolo sì di misurare in tempo reale il livello di awareness ma continuava a dare durante tutta la campagna segnali interessanti che appunto come reagiva non solo il target ma i diversi sottotarget alla awareness, anche risultati importanti come ad esempio qual è stata la frequenza ottimale per cui Polestar ha ritenuto efficiente il ricordo di marca e poi anche degli insight che esulano un po' dallo specifico mondo media ma che erano più coerenti anche all'aspetto diciamo del business più fisico di Polestar. Ecco, vi ho accennato l'integrazione Denzo e Quantcast, vi do qualche dettaglio in più. Ecco, Mercury è la soluzione, l'ambiente end to end di Denzo per la gestione di campagne in tutto l'addressable media, in tutte le sue declinazioni e queste campagne vengono gestite e ottimizzate continuamente con layer di intelligenza artificiale. Cosa significa questo aspetto nella campagna, nella fattispecie di Polestar? Ebbene, ha significato il fatto che Mercury ha messo a disposizione, ha permesso di utilizzare dati proprietari di Denzo con quelli di prima parte di Quantcast attraverso sistemi di intelligenza artificiale che ne hanno creato degli attributi comuni, il cosiddetto customer match, quindi una sorta di audience matching e questo ha permesso effettivamente di creare un segmento pronto nella DSP di Quantcast per essere erogato in programmatic CTV all'interno del mondo Quantcast. In pratica quindi, questo segmento partito inizialmente come audience 40+, socio demografico, in realtà si è trasformato in un segmento molto diverso, addirittura con aspetti comportamentali in attribute match e addirittura con aspetti valoriali più coerenti con i valori di marca di Polestar. Tutto questo, non dimentichiamolo, grazie alla Brand Live Live, questo segmento veniva continuamente sollecitato in tempo reale da i risultati che naturalmente la soluzione di Brand Awareness Live suggeriva alla campagna e quindi con ottimizzazioni costanti. Ecco però, prima di entrare meglio nei dettagli, permettetemi di introdurre il vero protagonista della campagna e quindi ho il grande piacere di presentarvi Polestar 4, quindi chiedo alla regia di mandarci un contributo. Bene, a occhio vedo che la platea è piuttosto in target, quindi sarà contento questo ulteriore livello di Brand Awareness, speriamo. Ma detto questo, vediamo che cosa è successo in pratica, quello che non solo ha toccato concretamente il cliente di questa campagna ma anche il pubblico che è stato esposto, esposto, ripeto, ad un formato di 15 o di 30 secondi, il spot che avete visto era il 15 secondi, sostanzialmente è stato posto al pubblico in target una specifica domanda chiusa con una risposta multipla, vedete? Hai mai sentito parlare di Polestar? Sì? No? Non ne sono sicuro. Ecco, i primi risultati che abbiamo visto è un andamento continuo e monitorato del livello di Brand Awareness, partito effettivamente piuttosto alto la prima settimana insieme alla seconda, ha avuto una crescita, poi ha avuto un piccolo, come dire, stallo, ma poi è cresciuto enormemente tra la quarta e la quinta settimana, segno evidente di un'ottimizzazione continua in tempo reale del livello di Brand Awareness. La campagna, per vostra informazione, è durata 5 settimane. Il secondo elemento importante è che il lift è stato registrato da due sottotarget particolari che hanno reagito in maniera molto importante. Primo la fascia 45-64, quindi se vi ricordate non esattamente il 40 più che avevamo ideato all'inizio e che poi è evoluto nel segmento che vi ho raccontato, ma anche gli utenti con figli, generalmente tra i 35 e i 40 anni, che hanno avuto una reazione sul lift e l'awareness decisamente più alta di tutti. Quindi, di nuovo, un elemento molto importante per Polestar, che non aveva gli elementi, prima del brief della campagna, di colpire anche questa tipologia di sottotarget, diciamo così. Altri elementi importanti sono relativi alla frequenza. Abbiamo, per esempio, notato che il grado di frequenza tra 5 e 10 esposizioni sul pubblico in target nella durata di una media di 12 giorni è la frequenza che ha portato al maggior ricordo di marca per Polestar. Tradotto nelle 5 settimane di campagna, significa che la frequenza ideale per avere un ricordo di marca efficace, nel caso di Polestar 4, è stato appunto di 5. Quindi, un elemento, diciamo, piuttosto utile per pianificare le campagne. E, da ultimo, come dicevo, degli insight che esulano un po' dal mondo puramente media, anche se nascono dal media. Ebbene, il ricordo di marca più efficace, il brand awareness più alto, è stato riscontrato nelle città medie del centro-nord. Quindi, ben maggiore rispetto a Milano e Roma, ma che sono un po' i centri nevralgici dove opera Polestar. Ed eccoci quindi in conclusione. La conclusione è che, ovviamente, non voglio tralasciare troppo il risultato di completion rate del 93%, ma sicuramente è un aspetto importante, ma mi voglio più concentrare sui risultati di brand awareness. Più 9% la prima settimana rispetto alla base, più 25% l'ultima settimana rispetto alla penultima settimana, quindi un elemento di nuovo di ottimizzazione costante, che alla fine hanno portato ad un risultato finale di brand awareness tre volte superiore rispetto al dato di partenza. E quindi, per concludere, effettivamente, anche nel mondo della CTV, avendo e godendo di risultati in tempo reale con delle specifiche audience, si possono sicuramente ottenere campagne di successo. E quindi, da ringraziarvi dell'attenzione, ringrazio Don Mididenzo, Quantcast e Polestar, che ci hanno permesso, ovviamente, di aggiungere un ulteriore tassello al nostro strategia CTV. Grazie a tutti.